Qual è la frase di Italo Calvino? E' stato questo il gioco che ha fatto decidere di chiamare il festival in questa maniera sia per una questione di contenuti sia per una questione di confini geografici. L'esigenza della trentesima edizione era duplice. Sicuramente bisognava trovare qualcosa che avesse un sapore celebrativo, quindi per parlare di oggi, parlare però anche del passato, di quello che storicamente ha rappresentato questo festival e allo stesso tempo qualcosa di particolarmente forte, di grande spessore per in qualche maniera festeggiare una ricorrenza così importante. Non è stato facile perché ovviamente non è che mi mancassero le idee, ma mi mancavano soprattutto i soldi e le risorse. Però mi sono consultato con i miei soci, con alcuni esperti del settore e ho pensato prima di tutto a qualcosa di particolarmente d'impatto. E quindi mi sono rivolto all'idea di un ritorno di Marie Chouinard, che avevamo già presentato l'anno precedente. E per quanto riguarda la storia, effettivamente Rosas e Anne-Teresa de Chesmaiker, diversi titoli del loro repertorio. Direi almeno in quattro edizioni dall'inizio degli anni Ottanta ai primi anni Novanta. E quindi diciamo che questo è stato lo spirito della scelta. Poi il dio della danza, come al solito, ha voluto darci una mano e addirittura siamo riusciti ad avere la presenza di Anne-Teresa de Chesmaiker oggi a inizio festival il 30 di settembre. Insieme a FAS, questo piccolo focus dedicato a Rosas, si compone anche di Ferclarte e Nacht, che è una delle coreografie più recenti di De Chesmaiker. E' però particolarmente significativa perché è uno di quei lavori che lei ha creato, rivisitato, riveduto e corretto. Quindi declinandola anche numericamente rispetto al numero dei danzatori partecipanti per arrivare poi a questa versione definitiva che credo sia esattamente l'essenza del lavoro concepito all'inizio. Se fosse per me, mi piacerebbe fare, non dico tutti gli anni, ma un anno sì o no no, quegli artisti che sono i miei preferiti. Però naturalmente la prima cosa di cui tengo conto è il gusto e la presenza del pubblico. Ci tengo moltissimo che il festival abbia un'apertura a 360 gradi, nel senso che tutti possano venire qui, seguire gli spettacoli e lasciarsi stupire, godere, ma anche probabilmente non gradire, perché no, è assolutamente ammissibile. E quindi le mie scelte cercano di inglobare dei progetti che prevedano, non dico tutti, ma almeno una buona parte dei linguaggi del vocabolario della danza contemporanea. Dopodiché, naturalmente, Marie Schouinar, l'ho chiesto di tornare, e quindi è ovvio che fa parte del mio immaginario preferito. Ma ci sono anche tanti italiani a cui sono affezionato. C'è un artista come Susanna Beltrami, per esempio, a cui mi sento particolarmente vicino artisticamente e affettivamente. è un artista che ha messo in piedi un centro di formazione particolarmente attivo, con la quale, oltre a presentare dei progetti da lei diretti e concepiti, riusciamo a mettere in piedi dei progetti dedicati soprattutto alle nuove generazioni.